Sono quattro le date indicate per riaprire l'Italia dopo l'emergenza coronavirus. Sarebbe questo a meno di cambi di rotta il calendario del governo per la fase 2. È atteso nel fine settimana il discorso del Premier Conte che ufficializzerà il calendario. Il 27 aprile riapertura di fabbriche e di macchine agricole. 4 maggio, data indicata da parecchi giorni come quella che dovrebbe rappresentare la fine del lockdown, quando anche i cantieri manifatturieri e l'otto ripartiranno. L'11 maggio la volta di negozi di abbigliamento e calzature, probabilmente anche di altre tipologie. 18 maggio dovrebbe toccare bar, ristoranti, anche in questo caso si studiano formule migliori per garantire le norme del distanziamento sociale. Accesso controllato e limitato alle stazioni della metropolitana, cerchi sui pavimenti di tram e bus per mantenere le distanze di sicurezza tra passeggeri, sedili alternati su treni regionali. Milano prova a disegnare il servizio di trasporto pubblico ai tempi del coronavirus per permettere ai cittadini di spostarsi in modo sicuro senza creare assembramenti in quella che sarà la fase 2. Ovviamente restano obbligatorie mascherine e distanziamento per tutti.